bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo video vorrei svelarvi tre siti per guadagnare online io li uso tutti e tre tuttora e vi assicuro che sono tutti e tre sia molto onesti e affidabili il primo che vi consiglio si chiama ciao.it questo sito consiste nello scrivere opinioni voi praticamente scrivete opinioni su cose che praticamente già sapete e avete una certa esperienza magari in un anime magari in come fare dei guadagni come in un libro non lo so come vendere su ebay quale sito usare per certi film voi siete usati di queste eccetera voi scrivete appunto delle opinioni e verrete pagati grazie al dei voti che vi daranno più voti riceverete più guadagnerete se per esempio il vostro voto per esempio è molto alto come molto utile e utile eccetera come qua come volete vedere guadagnerete di più ma se invece avete dei voti come scarso poco utile utile eccetera i vostri guadagni saranno molto meno come vedete il mio insomma saldo è a zero perché ho già trasferito i miei soldi sul conto bancario e dovrete farlo anche voi però collegando prima il vostro conto bancario su dati personali andate e vi mettete tutti i vostri dati spero di essere stato molto chiaro e proseguiamo al secondo sito il secondo sito che vi propongo si chiama neobux cosa consiste neobux consiste che voi potrete vedere delle pubblicità che vi verranno assegnati una volta al giorno per esempio mi sono stata assegnata la legge 747 vi danno all'incirca 25 26 pubblicità da visualizzare ogni pubblicità vi darà un millesimo di centesimo quindi 0,01 centesimo come vedete 0.001 scusate centesimo quindi ci vogliono 10 pubblicità per fare un centesimo non vi dico bucce questa è la verità comunque vi assicuro che potete fare da canto vostro 4 o 5 centesimi al giorno infatti io sono da pochi giorni che ho cominciato e che vi assicuro che è un sito sicuro al 100% non per niente è stata 10 anni in circolazione ovviamente i profitti sono molto bassi ma ci sta un modo molto singolo cioè ci sta un modo semplice per aumentare i propri profitti cosa si fa? si va qui su referral una volta che si va su referral potrete comprare degli affiliati praticamente come vedete qui 100 affiliati costano 20 euro cosa succede? cosa sono questi affiliati? adesso ve lo spiego questi affiliati per voi fanno delle visualizzazioni prima di tutto vi spiego che per un nome standard cioè per un contatto standard come il mio e come il vostro che vi andrete appena a fare non potrete avere più di 300 referral comunque ogni referral vi farà guadagnare dall'1 a 2 centesimi al giorno e quindi praticamente in un mese vi farà guadagnare 60 centesimi mentre voi ve ne considerate solamente 20 al mese praticamente ogni referral costa 20 centesimi al mese e quindi voi per ogni referral guadagnate 40 centesimi al mese ovviamente un referral non vale niente 10 lo stesso ma cosa ne dite di 100 200 300 e magari più in là potrete anche farvi un account gold e quindi avrete anche molti più referral è sicuro che questo sito è molto onesto e i vostri pagamenti li potrete avere già a 2 euro non è come altri siti che dovete aspettare 10 15 magari 50 70 eccetera solamente a 2 euro potete il terzo sito che si può dire che è il più proficuo è questo qui fanslave questo sito vi fa guadagnare praticamente come? collegando tutti i vostri social network una volta iscritto su questo sito che è abbastanza semplice ma dopo vi lascerò il link in descrizione per ognuno di questi siti per la registrazione vi iscrivete e vi troverete su questa pagina qua praticamente sulla home dovrete collegare dovete collegarvi l'account andate qui su earn credits e dovete collegare il vostro account facebook il vostro account twitter il vostro account google che sarebbe google google più e youtube inoltre come vedete inoltre ci sta anche questo traffic che ogni tanto vi darà alcune cose adesso vi darò appunto la dimostrazione che volevamo come vedete qui io tenco 448,70 crediti adesso io clicco questa cosa che si chiama c'è su questo link e si aprirà un video voi dovrete guardare il video per questi insomma questi trenta secondi e una volta terminati i secondi staccare il video e insomma cliccare qui ci sta 448,70 crediti adesso noi facciamo i crediti e qui quando abbiamo 449,10 crediti vi dico già a priori che su youtube e traffic saranno insomma i siti meno proficui mentre facebook e twitter saranno così la più proficui allora innanzitutto vi dirò che qui ci sta questo fan rank cosa significa? significa che praticamente ci sono dei livelli il livello è più alto e più ci sono possibilità che voi riceverete link da mettere mi piace da iscrivervi da visualizzare video eccetera e quindi più guadagnerete i livelli ci sta da 1 a 10 io sono appena a livello 1 perché ho cominciato appunto da poco infatti ho guadagnato solamente 2,25 euro come facciamo ad aumentare il fan rank? il fan rank aumenta praticamente con la costanza che voi ci metterete in questo sito e con praticamente la popolarità dei vostri social network se il vostro social network facebook per esempio è molto popolare è molto probabile che voi avrete molto più costi di facebook da cliccare lo stesso vale per twitter e anche lo stesso per google una volta arrivata la soglia minima di 15 euro come ritirare i propri soldi? adesso lo andremo a vedere quindi si va su earn credits, cash out e praticamente voi dovrete arrivare come minimo a 15 euro dopo di che vi si proporrà davanti due indirizzi o l'indirizzo email paypal oppure quello la pesa una volta che ci sta paypal voi deciderete il vostro indirizzo email e praticamente in due giorni lavorativi vi pagheranno vi assicuro che vi assicuro al 100% e detto questo spero di essere stato molto chiaro ma se volete altre informazioni non esitate a contattarmi bella ragazzi grazie 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 grazie